Poi vado su internet e vedo di quella donna africana che ha vissuto fino a 127 anni mangiando solo banane e poi un altro articolo che mi dice che i banali sono in via d'estinzione Forse perché le banane stanno cominciando a diventare scomode Forse perché se mangiamo solo banane arriviamo a 120 anni e magari ci riusciamo ad accorgere che i poteri forti ci stanno in culo No, ma magari sono io che sto vedendo il marzo Va bene, ma lei è entrata in autostrada contro mani Sì, sì, certo, cambiamo discorso Capito come fanno, capito come fanno